La mia regione in questo momento viene indicata come la più attiva dal punto di vista delle politiche per il lavoro. L'Istat nel secondo trimestre dice che la Puglia fa più 49 mila occupati, percentualmente siamo i primi come incremento dell'occupazione e il punto di un piano per il lavoro su cui abbiamo messo 350 milioni di euro che indica nei giovani, nelle donne e nelle figure vulnerabili come i cinquantenni che perdono lavoro, l'oggetto di una politica attiva specifica. Penso che questa sia una buona pratica.